Allora ragazzi, buongiorno. Questa è da intendersi come una seconda parte, seconda delle tre parti della lezione relativa alla perifrastica passiva. Nella prima parte ci siamo occupati delle funzioni del gerundio in latino. In questa seconda parte invece ci occupiamo del gerundivo. Quindi la prima cosa da fare è, allo stato attuale, imparare a distinguere un gerundio da un gerundivo. Non so se voi avete notato che già sul vostro libro Codex, alla pagina 168 che era da studiare per la volta precedente, c'è proprio come prima definizione relativa al gerundio, proprio qui, la frase il gerundio latino è un nome verbale neutro. Significa che funziona come un sostantivo. Infatti nella precedente lezione io vi avevo suggerito di considerare il gerundio proprio come un infinito sostantivato, quindi un verbo che ha funzione di nome. Il gerundivo invece, e lo dice già la stessa desinenza, non è un nome verbale, ma è un aggettivo verbale. Se prendete infatti la pagina 172 del vostro libro, la prima definizione che viene data di gerundivo è proprio questo. Il gerundivo è un aggettivo verbale, poi vi dice anche che è di parole passivo, eccetera, eccetera. Quindi per quanto riguarda la formazione, la struttura del gerundivo, naturalmente gerundio e gerundivo hanno una struttura molto molto simile, perché entrambi si formano dal tema del presente, con l'aggiunta del suffisso modale ND e con desinenze che hanno a che fare con la seconda declinazione, o meglio con gli aggettivi della prima classe. L'altra volta infatti io vi avevo scritto tema del presente, suffisso modale ND, desinenze della seconda declinazione e se ricordate, per quanto riguarda il gerundio, avevamo detto che non c'è una declinazione completa, nel senso che noi abbiamo le desinenze della seconda declinazione, ma non in tutti i casi, ce l'abbiamo soltanto nei casi di genitivo, dativo, accusativo e ablativo, mancano il nominativo e il vocativo e inoltre mancano tutte le desinenze del plurale, perché lo troviamo soltanto declinato al singolare. Invece il gerundivo, di cui ci occupiamo adesso, ha una declinazione completa, cioè essendo un aggettivo è dal punto di vista strutturale parificato a un aggettivo della prima classe. Significa che voi troverete una declinazione completa in tutti e tre i generi, quindi maschile, femminile e neutro, sia al singolare sia al plurale, con tutti i casi, tutti e sei i casi, alla stessa maniera di un aggettivo della prima classe, come per esempio bonus, bona, bonum, per cui boni, bone, boni, bono, boni e bono e così via dicendo per come già sappiamo che si declina, va bene? Quindi come si fa a riconoscere un gerundivo? Come si fa a capire se abbiamo davanti un gerundio o un gerundivo? Questa è un'operazione che in genere è semplice, perché tenendo conto del fatto che il gerundivo non è un nome, ma è un aggettivo, cosa ne consegue? Ne consegue che l'aggettivo da solo non può stare. Significa che il gerundivo lo troviamo sempre accordato a un nome. Vi ricordo che accordato a significa che l'aggettivo condivide col sostentivo con il quale è accordato genere, numero e caso. Ecco, quindi come riconoscere un gerundivo? In alcuni casi è immediato il riconoscimento. Per esempio, se io trovo una forma simile al gerundio, cioè con il suffisso nd che ha la desinenza denominativo, per esempio amandus, amanda, oppure con una desinenza plurale, per esempio amandas, amandos, già capisco immediatamente che non può essere un gerundio, ma che è un gerundivo. Questo perché lo ribadiamo? Perché il gerundio ha una declinazione molto limitata, per cui le uniche desinenze che io posso trovare in un gerundio sono quelle della seconda declinazione del genitivo, dativo, accusativo e ablativo singolare. Non posso trovare altre desinenze. Se trovo altre desinenze significa che non è gerundio, ma è gerundivo. Andiamo a vedere come si comporta e quali significati dà alla frase, cioè andiamo a vedere come si fa a tradurlo. Io vi chiedo di aprire la pagina e prendere come riferimento l'esempio che è alla pagina 173, dove dice funzione attributiva, che adesso vediamo che cosa significa, funzione attributiva e funzione predicativa. Ecco qua, se voi vedete, c'è nel secondo esempio, questo che avete evidenziato in giallo, abbiamo due frasi una di fronte all'altra. Nella prima dice cupidus videndi matrem. Questa prima frase contiene non il gerundivo, ma il gerundio. Videndi, naturalmente, il gerundio. Da che cosa lo riconosco? Lo riconosco perché c'è il tema del presente che è, vediamo se riesco ad inquadrarlo, non riesco ad inquadrarlo, che è vide. Poi c'è il suffisso modale nd, ci rinuncio ad inquadrarlo, avete capito? nd, tanto avete il libro davanti. E poi la desinenza i, che è quella del genitivo singolare della seconda declinazione. Sulla base di quanto abbiamo detto già nella lezione precedente, come tradurremo questo videndi? In maniera molto semplice, cioè individuando la preposizione specifica del caso, qua abbiamo il genitivo e la preposizione specifica del genitivo è di, e aggiungendo l'infinito presente del verbo, che in questo caso, essendo video, è vedere. Video vides, vidi visum, vedere. Quindi videndi come si tradurrà? Di vedere. Il soggetto naturalmente è cupidus, aggettivo che significa desideroso, dal verbo cupio, che significa io desidero ardentemente, e la stessa radice nella parola cupido, no? Che è collegato, come sapete, con afrodite, che in latino è venere, che indica proprio il desiderio sessuale, quindi un desiderio molto forte. Cupidus videndi, cioè desideroso di vedere. Poi abbiamo l'accusativo matrem, che ovviamente è il nostro complemento oggetto. Che cosa? O chi? La madre. Quindi cupidus videndi madre, tradurremo desideroso di vedere la madre. Andiamo a vedere il secondo esempio, cioè la stessa frase, però fatta non con il gerundio, ma con il gerundivo. Guardate la differenza. Intanto noi abbiamo una desinenza che mai e poi mai potremmo avere, mai e poi mai potremmo avere in un gerundio. Perché la desinenza di tongo è che nel gerundio non possiamo avere, in quanto questa desinenza è noi ce l'abbiamo nel genitivo del femminile, cioè prima declinazione. Quindi già da questa desinenza si capisce che abbiamo davanti non un gerundio, ma un gerundivo. Essendo gerundivo, cosa abbiamo detto? Che non può stare da solo. È un aggettivo che si deve necessariamente accortare con un nome. Quindi noi possiamo cercare nella frase un sostantivo, cioè un nome, che abbia stesso genere, numero e caso di questo aggettivo verbale, che è il nostro gerundivo. Quindi dovrà essere genitivo, singolare, femminile. Facile in questo trovarlo perché la frase è costituita da sole tre parole e quindi la parola che noi stiamo cercando è proprio matris. Mater, matris, genitivo, singolare, femminile, della terza declinazione. Andiamo a vedere come si traduce. Ora, cupidus è sempre desideroso. Vidente matris, quindi sarebbe desideroso di una madre e cupidus dà una caratteristica di questa madre, essendo nell'aggettivo. Cioè una madre da vedersi, da vedersi. Che significa io sono desideroso di una madre da vedersi? Significa che sono desideroso di vedere la madre. Quindi la traduzione è la stessa, chiaro? Cosa si nota però? Si nota che nel primo caso, con il gerundio, noi abbiamo un'azione che è all'attivo. Desideroso di vedere la madre. Infatti abbiamo il complemento get, matrem. Nel secondo esempio, invece, con il gerundivo, il verbo ha una diatesi passiva. Perché io sono desideroso di una madre da vedersi. Come vedete io ho inserito il sì passivante. Quindi questo da vedersi già mi dice uno che l'azione è pensata al passivo e poi che è collocata nel futuro. Perché io sono desideroso di una madre da vedersi. Quindi non la sto vedendo in questo momento, ma ipoteticamente la vedrò in un futuro. Ecco. Quindi per, diciamo, brevità, come si traduce il gerundivo? Più avanti trovate, sempre alla pagina 173, vi invito a leggere con molta attenzione questi tre righi qui, dove dice in italiano il gerundivo, si traduce come il gerundio. Naturalmente come il gerundio del latino, cioè quello che abbiamo visto nella precedente lezione, non intende come il gerundio in italiano. Cioè non dice di tradurlo col gerundio italiano, dice di tradurre il gerundivo alla stessa maniera in cui abbiamo tradotto il gerundio. Cioè con la preposizione, con la preposizione specifica del caso in cui è espresso il gerundivo, seguita dall'infinito presente. Guardate gli esempi. Esempi col genitivo. Spes capiendi urbem. Questo è un esempio col gerundio. Speranza, essendo capiende il genitivo mettiamo di, di prendere, che cosa? La città. Nel gerundivo spes capiende urbis. Cioè speranza di una città da prendersi. Che significa? Significa speranza di prendere la città. Quindi in sostanza, quando si trova il gerundio, così come quando si trova il gerundivo in latino, la traduzione è la preposizione del caso specifico seguita dall'infinito. Poi il contesto della frase vi aiuterà moltissimo per completare il tutto. Quindi intanto io chiudo così perché già vedo che sono 12 minuti e non è il caso di fare queste micro lezioni. Sono micro lezioni proprio perché non devono essere molto lunghe, molto pesanti da caricare. Però come al solito potete inserire nei commenti del video le vostre domande, le vostre richieste di chiarimento. Vi indicherò poi sia nelle note del video sia nella portale di Classroom quali esercizi svolgere e quale pagine.